La banda larga in Calabria diventerà una realtà attraverso un grande progetto approvato dalla Giunta regionale. Mediante un finanziamento dei fondi comunitari si riuscirà ad avere una connettività fino a 30 mega bps, un'infrastruttura giudicata ormai irrinunciabile se si vuole parlare davvero di sviluppo dei territori e si stima che possa contribuire ad aumentare il PIL di almeno l'1,2%. Il programma è finalizzato alla posa di cavi ottici per consentire agli operatori di telecomunicazioni l'implementazione delle reti di accesso a banda ultra larga. 53 comuni interessati, 43 dei quali sopra i 7 mila abitanti, 360 mila alloggi, 263 scuole, significa 27 strutture sanitarie che saranno ovviamente intercettate e avranno un servizio ovviamente di questa natura e quindi facciamo correre questo tipo di infrastruttura perché ci sono aree veramente nel nostro territorio regionale che sono praticamente isolate. Questa era una delle azioni volute dal governo nella fase di riprogrammazione insieme all'ambiente, alla pubblica istruzione, quindi l'occupazione, si è pensato ovviamente di inserire questo e la banda larga come uno degli strumenti necessari per far crescere ovviamente non soltanto la Calabria ma l'intero paese.